Completato l'iter per la scuola Carlo Febbo di San Nicolò a Tordino, la regione annuncia il finanziamento, di fatto partiranno presto i lavori. Sì, un piccolo miracolo per la frazione, per la città tutta, insomma il recupero di questo finanziamento che era stato perso negli anni precedenti. Abbiamo lavorato per questo obiettivo dal primo giorno successivo all'insegnamento, così come promesso in campagna elettorale. Devo ringraziare gli uffici della regione Abruzzo, l'Ater e la giunta regionale per la sensibilità dimostrata nel raccogliere la proposta di rilancio del comune di Teramo, della nuova amministrazione comunale, che risponde a un'esigenza, quella della riqualificazione della frazione di San Nicolò a Tordino, la più popolosa del nostro territorio, attraverso la riqualificazione del suo edificio storico, la Carlo Febbo, e di tutta l'area circostante. L'edificio che dovrà essere destinato ovviamente alla tutela di interesse pubblico, quindi con la presenza di una biblioteca, destinato alle associazioni, al ripristino di servizi sul territorio, e poi finalmente alla realizzazione di un'area verde, l'area verde circostante, del parco circostante, per dare finalmente un'area verde alla frazione più popolosa del nostro territorio. Lo stanziamento è di 551 mila euro? Sì, è lo stesso stanziamento del passato, anche perché la richiesta si fonda sul fatto che c'è un progetto già avviato, che adesso rivedremo, rimoduleremo con i nostri uffici e anche nel dialogo partecipativo con la frazione, ovviamente in tempi stretti, perché non possiamo correre il rischio di ulteriori ritardi. Chiederemo l'anticipo nel pieno delle opere pubbliche dal 2020 al 2019 per l'intervento e arrivare poi in tempi brevissimi, quindi a chiudere la progettazione definitiva e esecutiva e poi ad appaltare i lavori. Lei ottimisticamente nel suo programma elettorale aveva ipotizzato l'inizio dei lavori nel 2020, invece la realtà è stata più ottimista questa volta del suo progetto? Sì, abbiamo lavorato bene insieme alla regione Abruzzo e quindi adesso ci sono le condizioni anche per anticipare. Insomma con gli uffici e la frazione tutta lavoreremo proprio secondo questa linea, che è poi in fondo la linea volta a garantire il bene della frazione.